Intanto presento, non so se definirli ospiti perché invece sono stati i nostri partner duranzi. In qualche modo Alessandro Martini, che è il direttore della Caritas, è il capofila di questo progetto e il dottor Salvatore Nasca, che è il direttore del WIEPE, come queste sigle che si complichino continuamente, sono stati i partner essenziali del progetto sulla mediazione penale nella messa alla prova, di cui oggi presentiamo i risultati di un anno circa di lavoro. Veramente tre parole perché poi ne parleremo tutta la giornata. L'idea nasce da una lunga esperienza che, come altro diritto, stavamo facendo di mediazione penale presso il giudice di pace, che era l'unica forma di mediazione per adulti prevista dal nostro ordinamento, di mediazione penale per adulti prevista dal nostro ordinamento. Quando è stato introdotto l'istituto della messa alla prova, in cui di nuovo si prevede esplicitamente la mediazione, abbiamo all'inizio informalmente lavorato con l'UEPE per vedere se potevamo inserire questo istituto, sfruttando appunto il gruppo di mediatori che lavorava già presso il giudice di pace anche nella messa alla prova. L'idea c'è venuta per una lunga discussione che c'è su questo istituto. Molti dicano che questo istituto è in violazione del principio di innocenza, della presunzione di innocenza e chi in dottrina tende la Corte Costituzionale a cui è stato posto il problema si è, come dire, ha trovato l'escamotage per non pronunciarsi sul problema, sollevando dubbi sui motivi della remissione del giudice a cuo. Ma chi in dottrina sostiene che si possa salvare l'istituto lo sposta moltissimo sulla mediazione penale. Cioè dice che è un istituto che può trovare una giustificazione se la mediazione penale viene ad essere il suo elemento caratterizzante. Allora anche diciamo sul conforto di questa discussione abbiamo cominciato a fare mediazioni penali nella messa alla prova e abbiamo visto che funzionavano abbastanza bene. A quel punto abbiamo provato a istituzionalizzare la cosa e qui nasce la collaborazione con Alessandro Martini e con Francesco Grazzi che è in giro, è quello che tiene in piedi la baracca e la cosa ha funzionato abbastanza bene. Direi anche molto bene se vediamo i numeri perché abbiamo fatto un numero di mediazioni enormi che non hanno pari in nessun ufficio di mediazione nemmeno minorile in Italia. Perché questo? Perché il particolare istituto della messa alla prova consente di fare non solo mediazioni dirette, presunto offensore perché appunto siamo prima del processo, presunto offensore vittima, ma permettano di fare delle mediazioni che noi chiamiamo di comunità. Perché uno dei grandi problemi nella mediazione penale è che da un lato spesso la vittima non vuole fare la mediazione, specialmente se è passato un po' di tempo gli si rifiuta di ritornare sopra il vissuto del danno sofferto. A volte la vittima non c'è, non c'è una vittima diretta, a volte il reato è contro interessi che non si impersonificano in una persona concreta. Allora abbiamo cominciato a fare mediazioni con enti esponenziali, fondazioni, onlus e via dicendo, degli interessi offesi. Questo perché la speciale connotazione della misura della messa alla prova poi consente in qualche modo di legare la messa alla prova stessa, il programma di messa alla prova stessa, a un lavoro da fare in quegli enti a favore di quegli interessi offesi. Che è un nuovo modo di impostare la mediazione penale, cioè connetterla quando riesce anche con il programma di messa alla prova, che diventa un programma di risarcimento non diretto della vittima ma come in qualche modo di rinsaldamento dell'interesse offeso rappresentato collettivamente da un ente. E questa cosa ha funzionato molto bene e infatti abbiamo fatto un numero in un anno che va oltre le 120 mediazioni, che sono numeri enormi. Spesso se voi andate a vedere anche gli uffici storici di mediazione come quello di Milano dell'amico Adolfo Ceretti che avevo invitato a essere qui e che purtroppo non può essere qui, fanno 20-30 mediazioni in un anno, 40 quando va molto bene. Quindi sono numeri in qualche modo stratosferici ma che trovano una loro giustificazione nella ricollocazione della mediazione penale in questo istituto della messa alla prova. Dopodiché gli esiti sono buoni, cioè chiaramente ci sono un certo numero di mediazioni che non riescono, che non si fanno, ma gli esiti di quelli che si fanno sono nel 98% dei casi positivi. E questo è anche un altro grande indicatore di successo. Credo di avere già portato via troppo tempo ma era necessario fare una brevissima presentazione. do la parola prima appunto a Salvatore Nasca perché poi l'ufficio di esecuzione penale esterna è l'ufficio deputato a seguire le messe alla prova. Per cui è il nostro partner, il nostro, in tempo sto parlando come ufficio di mediazione penale, il nostro partner diretto e istituzionale in questo lavoro. Prego Salvatore. Sì, anch'io voglio dire solo due parole perché l'aspetto, il punto più importante di questa giornata è proprio la presentazione dell'esperienza e delle riflessioni che possono venire fuori dall'esperienza. Ma due parole mi sembra importante dirle. Innanzitutto per ringraziare come si fa di solito ma veramente oggi mi sembra di volerlo fare con partecipazione forte, tutti presenti perché non è scontato che su un tema di questo tipo ci sia un'attenzione così grande. Quindi sicuramente le autorità che sono presenti ma anche tutti, non solo gli operatori degli UEPE e non solo gli operatori della mediazione o legati in qualche modo alla mediazione penale ma anche altri che hanno sentito l'interesse di venire. E questo è un segnale che questo tema della mediazione penale comincia a essere un tema non più solo per addetti ai lavori. Quindi mi fa molto piacere questo aspetto. Come diceva prima Emilio, ha spiegato da dove è nata l'idea per l'associazione altro diritto. Per noi ufficio esecuzione penale esterna l'idea nasce, lo dico molto brevemente appunto dalla legge sulla messa alla prova che parla anche di mediazione penale, però come sappiamo una cosa è scrivere delle leggi, un'altra cosa è poi applicarle. Una realtà, una possibilità assolutamente nuova, mai sperimentata se non in casi assolutamente eccezionali e invece adesso prevista per legge. Noi come UEP in Italia, anche in Toscana sostanzialmente ci siamo concentrati su un aspetto della giustizia riparativa, quello delle attività gratuite a favore della collettività e su questo ormai abbiamo un'esperienza consolidata e possiamo dire che ormai è una realtà che la pena non sia più solo recupero e reinserimento, ma anche responsabilizzazione e riparazione. E questo è un grosso passo avanti in Italia per una nuova cultura della pena. Un aspetto particolare della riparazione è proprio la mediazione penale, quindi siamo anche particolarmente contenti che oggi questo sia un convegno non solo, non tanto sulla giustizia riparativa di cui sempre più spesso si parla, fino alla settimana scorsa il convegno regionale dell'ordine degli psicologi della Toscana è stato incentrato sulla giustizia riparativa, ma su questo piccolo, se vogliamo, tassello della mediazione penale che è il più forse delicato, più difficile, il più forse nuovo. Quindi è un elemento per me di grande soddisfazione poter dire che oggi non si parli più soltanto di giustizia riparativa e soprattutto mi sembra particolarmente importante il convegno di oggi perché non è un convegno sulla teoria, come spesso con tutto rispetto degli esperti, spesso si fa e alcune volte, tante volte troppo, ma è un convegno che parte da un'esperienza su cui poi è bene, giusto e importante fare anche delle riflessioni, ma che partono dal vissuto, da quello che si è riusciti, con tutti i limiti possibili, ma che si è riusciti positivamente a realizzare. Quindi in questo senso noi come UEPE ci sentiamo fortemente coinvolti e siamo particolarmente contenti che appunto grazie alla Caritas, alla CEI e all'Associazione Altro Diritto siamo riusciti dandovi un buon convegno, soprattutto un convegno utile per riflessioni e anche per esperienze future, sempre in questa direzione. Grazie Salvatore. Sì, io lo dicevo a Patrizia Giunti, la direttrice del mio dipartimento ieri sera, siamo nati oltre vent'anni fa per dire ci occupiamo del diritto in azione e non nel diritto sulla carta. Prima vediamo come funziona e poi ne discutiamo perché almeno abbiamo qualche cosa su cui discutere. Alessandro Martini, che è il direttore della Caritas di Firenze, è appunto la persona grazie alla quale questo progetto si è potuta fare perché la Caritas si è fatta carico di questo progetto e grazie alla Caritas abbiamo potuto ottenere un finanziamento della conferenza episcopale italiana per svolgere quest'anno di lavoro e anche per fare questo convegno. Quindi prima di tutto grazie Alessandro perché se tutto questo esiste poi perché marxianamente le cose ci hanno le gambe economiche su cui devono camminare e quindi se tutto questo esiste è anche gran parte merito tuo e di Francesco. Prendere l'applauso prima di cominciare potrebbe dire non dico niente, non dico niente, non dico niente. Anche perché non è totalmente vero questo perché è vero ma è vero anche e soprattutto che è grazie, intanto buongiorno a tutti, ma è grazie anche a questi, diceva Emilio, i soldi non sono tutto nella vita ma contano come si dice, fanno la differenza. E la conferenza episcopale italiana ci ha accolto questo progetto che riguardava all'inizio e riguarda tuttora tre aree della nostra Caritas Toscana la diocese di Fiesole, la diocese di Firenze e la diocese di Pistoia che si sono coordinate in un progetto che viene sostenuto e lo voglio ricordare subito, quindi lo spot lo faccio all'inizio, dai fondi 8x1000 che tutti sanno che ci sono quindi soldi di tutti, di tutti quelli che hanno dato la disponibilità a sostenere questo fondo e che la Chiesa Italiana utilizza anche in queste cose. Lo voglio dire perché non è frutto del caso è un progetto che ha una sua ben precisa connotazione. Ma al di là di questo, il mio vuole essere poco più che un saluto, ma io sono da una parte molto soddisfatto non solo di questa giornata ma soprattutto del progetto, noi come Caritas lo siamo ovviamente molto che ci vede in qualche modo in prima linea con tante esperienze, penso alla lavanderia, penso a altri progetti tanti che noi abbiamo in campo da tanti anni insieme con altri soggetti che qui a Firenze sono anche molto ben vivaci del terzo settore e si occupano dell'area carcere e dell'area giustizia. Siamo molto contenti ma siamo anche preoccupati perché questa giornata, vi ringrazio tra l'altro di essere in tanti perché quest'aula è un'aula impegnativa mentre ringrazio l'università, Emilio dell'altro diritto e il ministero di grazia e giustizia nelle sue articolazioni ringrazio tutti, voglio anche dire eravamo preoccupati perché questo abbiamo accettato una sfida penso di poter dire dal punto di vista numerico la stiamo vincendo e la preoccupazione è l'impegno di vincerla questa sfida a livello di qualità, di contenuti e soprattutto di messaggio che noi vogliamo mandare anche fuori da qui rispetto a un percorso che è tutt'altro che facile e chi lavora sul campo tutti i giorni questo lo sa bene. Quindi soltanto due o tre considerazioni veloci che sono poco più che un saluto nell'essere soddisfatto ovviamente non potrebbe essere altro che così. Intanto noi siamo e qui vorrei dirlo in una realtà che è molto variegata e articolata e questo non è secondario. Qui è rappresentato il mondo dell'azione sociale, dell'impegno sociale, è rappresentato il mondo della giustizia, è rappresentato il mondo del terzo settore con tutti questi tre mondi a loro volta hanno tante articolazioni al loro interno e quindi questo è un elemento importante perché se qualcuno di noi rappresenta il sociale qualcuno la giustizia, qualcuno la scuola, l'università, qualcuno il terzo settore ma tutti, tutti rappresentiamo un unicum che è l'elemento di forza secondo me su cui fondare questo percorso che non è né sociale né di giustizia, è culturale, è culturale vorrei dirla così, è culturale perché noi stiamo con questa nostra giornata siamo qui, io la penso in questo modo, a riaffermare la necessità di lavorare insieme e di lavorare in una certa direzione che oggi diciamocelo subito altrimenti saremo degli usi è minoritaria, è minoritaria, questa è la mia impressione, basta essere un po' in mezzo alla gente si capisce, è minoritaria perché oggi passano altri messaggi e questo secondo me è il primo punto su cui dobbiamo con chiarezza, con onestà, con coraggio sostenere alcune idee fondanti questa esperienza, ognuno dal suo punto di vista, dalla sua posizione, dal suo ruolo allora, ruoli, posizioni, limature, differenti ma un unico obiettivo qui ci sono due parole chiave oggi, due espressioni chiave, mediazione e messa alla prova per noi mediazione in carita se vuol dire, lo vorrei tradurre con le tre A vuol dire ascolto della persona, vuol dire attenzione alla persona, vuol dire accompagnamento alla persona, la persona punto perché la cultura che io ritengo negativa oggi guarda più e approfondisce di più gli aspetti che sono gli aggettivi allegati a persona piuttosto che la persona e avendo perso questo valore fondante dell'essere persona sempre e comunque finché abbiamo la possibilità di respirare per noi è questo il punto da cui non prescindere mai e qui nasce poi la difficoltà quindi per noi è importante lavorare sul percorso di mediazione nelle situazioni in cui ci troviamo perché per noi ascoltare, fare attenzione, accompagnare le persone è il massimo, è la priorità assoluta del nostro impegno anche di Caritas, di Chiesa ma vuol dire anche di società civile nel senso civile con la C maiuscola e quindi cosa vuol dire, e poi mi fermo vuol dire per noi sintetizzato al massimo che oggi siamo qui, domani, dopodomani, in futuro speriamo di continuare di incrementare il nostro impegno perché questa sappiamo è la strada giusta, ci crediamo e perché in fondo ragionando di messa alla prova in fondo prima ancora che entrare nella tecnicistica questione che è pure importante dobbiamo ragionare sulla nostra capacità, volontà e impegno di metterci alla prova questo gioco di parole per me non è banale riusciremo nell'intento e siamo convinti ce la faremo solo se saremo capaci e avremo la volontà di metterci tutti alla prova nel nostro essere diversi per ruoli, per visioni della vita per tutto quello che vogliamo ma nella unicità dell'obiettivo che è quello in qualche modo di rendere più dignitosa la vita a tutti e più possibilità di riscatto per tutti perché questo non è soltanto un valore cristiano un valore umano quello che ci distingue da tutto il resto del contesto noi umani è questa strada qua io ne sono profondamente convinto allora io auspico a questa giornata tutto il successo possibile auspico che da questa giornata si possano sviluppare nuove energie nuove possibilità di lavoro di rete come oggi si dice che non è altro che un metterci alla prova insieme e dove si possa davvero nella consapevolezza di essere minoritari però affermare quella strada giusta in cui noi crediamo per il benessere e per l'agio e per la tutela di tutti non soltanto di quelli a cui noi fa più comodo pensare questa è la grande scommessa se la scommessa di riempire questa sala è una scommessa semplice al limite quasi del puerile voglio dire la scommessa di andare avanti su questa strada noi ci crediamo una scommessa grande che ci è chiesta perché i valori ce lo chiedono e soprattutto perché ce lo chiede il nostro senso di responsabilità non possiamo continuare a illuderci penso alla messa da prova e concludo noi abbiamo centinaia di persone che stanno sperimentando questo questo importante importante servizio sono esperienze molto belle molto belle potrei raccontare episodi e situazioni non lo faccio ovviamente per rispetto a voi per la brevità ma sono esperienze anche che si fa fatica a fare talvolta ma danno grande grande soddisfazione a tutti a chi viene inserito a chi accoglie purtroppo siamo un paese dalle grandi contraddizioni a noi che accogliamo come organizzazione di volontariato ci è chiesto di pagare l'INAIL perché sono considerati lavoratori questo non viene detto in giro ma molte organizzazioni del volontariato hanno smesso di fare attività e lo sanno bene quelli che non riescono perché purtroppo formalmente non fa una piega il problema non fa una piega perché l'INAIL considera lavoratori però nel sistema ecco il metterci alla prova nel sistema no? dobbiamo rivedere molte cose io sono fiducioso la speranza per noi è la regola quindi avanti grazie per essere qui tutti e grazie anche per il lavoro che potremo fare insieme da qui in avanti grazie Alessandro allora a questo punto dobbiamo fare una complicato cambio di formazione al tavolo ringrazio Salvatore ringrazio Alessandro invito Patrizia Giunti che ho perso di vista dove sei? dove sei? vieni vieni la dottoressa Manirena Rizzo la presidente Manirena Rizzo eccola Francesco Marsico Laura Bini e Don Raffaele Grimaldi a sedersi a questo tavolo il sottosegretario Cosimo Ferri dovrebbe essere qui in un quarto d'ora venti minuti l'ho sentito un'ora fa era in autostrada da Roma che stava io non cambio io posso cambiare identità ma il resto fisicamente è lo stesso il segno apposto come sempre il criterio ordinativo ah sì Lucia vieni credevo di averti messo dominata per prima mi sono perso buongiorno ci manca ti hanno trovato ci sei perfetto andiamo nell'ordine del programma e saltiamo Cosimo e poi recuperiamo appena arriva credo che prima di questa sessione sarà arrivato io quindi do la parola a Patrizia Giunti che è la direttrice del mio dipartimento del dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Firenze grazie al quale siamo qui oggi e grazie al quale io da vent'anni mi occupo di queste cose e grazie al quale l'altro diritto esiste perché è strettamente legato fino al fatto che diciamo risiede allocato allocato nel dipartimento di scienze giuridiche non esisteremmo senza il dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Firenze grazie grazie a tutti buongiorno è un onore è un piacere davvero poter intervenire come direttore del dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Firenze per porgere a tutti voi il saluto il benvenuto e l'augurio di buon lavoro in questa giornata che le parole di apertura dei tre pilastri che sostengono il progetto dedicato all'attenzione di tutti oggi ecco hanno già messo in evidenza ed è in ragione di questo un saluto e un augurio di buon lavoro che si declina immediatamente anche in un ringraziamento in un ringraziamento che va subito ad Emilio ad Emilio per questa sua inarrestabile energia quotidiana e questa sua straordinaria capacità di calarsi nella concretezza delle situazioni e dei problemi e di trascinarli con tutta la sua forza all'attenzione anche della riflessione scientifica perché poi questo è un profilo sul quale vorrei minimamente ritornare e al seguito di questo primo ringraziamento il ringraziamento a tutti i relatori che sono qui presenti che interverranno nel corso della giornata e naturalmente a tutti voi che parteciperete a questi lavori che come è stato anticipato e ripeto questo è il primo momento di attenzione che l'iniziativa di oggi merita riguarda innanzitutto un profilo di esperienza quindi partiamo dalla concretezza di un intervento un intervento che ha numeri sicuramente confortanti che certo però ed è stato ed è stato detto con parole molto molto efficaci dal direttore della Caritas rappresentano ancora un segmento minimo in una prospettiva di ordine complessivo generale e tuttavia il conforto della speranza ecco davvero l'ultima parola del direttore della Caritas che va al di là di un aspetto fideistico ma ci rappresenta nella nostra dimensione umana questa esortazione è nello stesso tempo anche il segnale della necessità di tradurre questo segmento esperienziale in una prospettiva più ampia ogni esperienza è per ripetere la parola di madre Teresa di Calcutta è una goccia nell'oceano ciò che ognuno di noi fa è una goccia nell'oceano ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno quindi è chiaro che ogni esistenza misura se stessa la propria dignità e il senso del suo porsi in relazione con gli altri in rapporto alla sua capacità di dedicarsi all'azione ma è allo stesso tempo evidente che l'azione è in grado di diventare prospettiva di rinnovamento complessivo nella misura in cui si traduce nella costruzione di categorie generali non può declinarsi come strumento di autentico rinnovamento di un'esperienza e di un sistema se non riesce a calarsi nelle categorie che sono contemporaneamente concettuali ed operative ma che sono capaci di scavalcare quella singola esperienza per farsi prospettiva ampia per farsi prospettiva di rinnovamento globale complessivo al di là sicuramente della moda che oggi accompagna l'aggettivo globale l'esperienza umana lo è sempre stata nel senso che non esiste un individuo che non sia un elementolistico integrato nella società è dal 1600 che sappiamo che nessun essere è un'isola e che per questo quando suona la campana la campana non suona suona per tutti perché non sono un'isola ma la mia vita è in mezzo agli altri ed è partecipata nella vita degli altri ma vi ripeto questa esperienza ed ecco perché il senso di questa presenza oggi qui nell'università è a mio avviso particolarmente qualificante di questa iniziativa perché la grande sfida deve essere proiettare questo dato esperienziale che ancora ha confini limitati in un rinnovamento autentico anche in prospettiva del sistema giustizia penale ma tutto questo sulla base di un rinnovamento culturale ed ecco l'importanza della presenza degli operatori sociali delle realtà del terzo settore del realtà del tessuto sociale perché è chiaro che un ripensamento delle dinamiche interne alla pena è chiaro che un'attenzione alla restorative justice in termini più generali proiettando il modello che negli Stati Uniti è sotto discussione da decenni con derive pericolosissime perché per la restorative justice è in nome della giustizia riparativa è in nome di una soddisfazione morale della vittima negli Stati in cui ancora in vigore la pena di morte si giustifica il particolare arredo l'essere particolarmente confortevoli del poltrone nella quale siedono i parenti delle vittime che assistono all'esecuzione penale del condannato all'esecuzione criminale del condannato quindi c'è un rischio ed è una necessaria che deve passare attraverso una riflessione complessiva gli storici del diritto affidano a questi elementi una riflessione complessiva sull'emergere di pericolose derive vendicative signori non dobbiamo nasconderci la storia non è una linea progressiva continua la storia è una rete fatta di segmenti in cui il rischio della regressione esiste in cui non è mai data una conquista definitiva ed ecco allora perché ogni esperienza ha bisogno anche del confronto attraverso la tradizione la cultura le categorie giuridiche perché ciò che è bene deve restare bene ma questo può farlo soltanto in presenza di una chiara consapevolezza del quadro complessivo e quindi ecco perché ripeto grazie ad Emilio che vuole portare questo momento di esperienza che aspira a diventare un motore di riforma della logica della strategia penale della funzione meramente riparativa della pena retributiva della pena in una dimensione riconciliativa ma tutto questo proiettandosi in un autentico rinnovamento che deve essere innanzitutto rinnovamento culturale delle categorie complessive della riflessione giuridica sociologica attraverso il supporto costante della storia che ci dice che cosa è stato che ci dice dove non andare dove non tornare e per questo grazie ripeto di nuovo a tutti voi per la presenza quest'oggi l'augurio del buon lavoro come capite da quello che ho detto è particolarmente intenso è un augurio particolarmente forte e a queste esperienze che si affida anche la prospettiva di un rinnovamento complessivo del sistema della giustizia penale nel nostro paese e non soltanto grazie a tutti voi grazie grazie Patrizia soprattutto perché il tuo non è stato un saluto ma un intervento vero che ha toccato il cuore del problema e insomma come sanno quelli con cui lavoriamo sono riflessioni che portiamo avanti da dieci anni e appunto la sterilizzazione degli effetti negativi della giustizia riparativa e il loro riorientamento e la messa alla prova è probabilmente il contesto in cui questo è più facile più fattibile è il grande problema che abbiamo sempre discusso e l'altra cosa grazie per aver ricordato appunto come prassi e ricerca devono andare insieme e devono continuamente confrontarsi se no non riusciamo a costruire niente solo dal confronto continuo tra della ricerca con la prassi e della prassi con la ricerca probabilmente riusciamo a trovare strade nuove che funzionano grazie veramente Patrizia do la parola alla presidente del tribunale la dottoressa Marilena Rizzo che è un po' la casa di tutta la nostra esperienza prego Marilena sì grazie buongiorno a tutti sono felice sono veramente felice di essere stata definita rappresentante di un'istituzione che è casa di questo di questo evento perché devo dire che sono anche piacevolmente commossa del fatto di come la filosofia del diritto possa diventare realtà perché questo che è stato fatto e che faremo in futuro perché già ora anticipo che il tribunale che io rappresento sicuramente si impegnerà in questa direzione della mediazione penale e della funzione riparativa e rieducativa della pena già lo anticipo ma dico è particolarmente emozionante vedere come le teorie la filosofia non solo del diritto ma la filosofia in genere che spiega cos'è l'uomo qual è la funzione dello stesso qual è la funzione della giustizia possano trovare effettiva concretezza non siano solo idee ma sono idee che diventano fatti e devo dire che l'altro aspetto che mi ha colpito piacevolmente quando ho saputo di questa iniziativa è quello della cooperazione fra soggetti molto diversi c'è il ministero della giustizia c'è l'università c'è la caritas c'è la cei è un bellissimo modo di andare avanti ed è sicuramente un metodo che se anche appartiene a una minoranza come è stato detto è una minoranza però trainante una minoranza che sa fare luce e che deve fare luce per illuminare la strada a coloro che ancora sono nel buio la mediazione penale praticamente dà concretezza a questa idea della anche riparazione dello strappo che il reato porta e secondo me però è anche una riflessione che va portata insieme ad altra riflessione ad altra iniziativa che il tribunale ha già intrapreso che è quella della tutela delle vittime del reato io vedo qui in sala rappresentanti di Aleteia Firenze che è un'associazione che insieme al tribunale e al comune di Firenze alle ASL ha messo in piedi il progetto DAFNE che si occupa delle vittime del reato quindi ci occupiamo della vittima del reato cercando di riparare intimamente tutti quei danni che il reato gli ha cagionato ma attraverso la mediazione penale ci occupiamo e accompagniamo anche chi quel reato ha posto in essere cerchiamo di mettere in contatto autore e vittima in una visione globale e complessiva quindi questa minoranza se veramente è tale ma mi pare che racchiuda però soggetti molto significativi della società perché qui sono un pochino rappresentati tutti i soggetti attivi in questo settore della società ripeto questa iniziativa deve evidenziare questo per mettere a tacere la maggioranza che può essere ancora rapportata a sentimenti vendicativi allorché si compie un reato deve essere rappresentata come uno dei tasselli di riparazione dei danni che il reato compie unitamente al tassello che accompagna la vittima quindi imputato e vittima accolti e seguiti in un'unica visione pertanto ho avuto piacere di essere presente in questa sede più che altro per il valore simbolico che la presenza del tribunale deve avere in cossessi di questo genere e per rappresentare che sicuramente il tribunale di Firenze si impegnerà a collaborare con l'università e con le associazioni e con l'Uepe in questa direzione e quindi è un modo anche per rappresentare come questa filosofia del diritto questa idea di minoranza in realtà possa anche diventare un po' meno minoranza se tutte le persone che hanno un ruolo chiave veramente si impegnano in questa direzione pertanto io non posso che compiacermi della iniziativa non posso che ringraziare dell'onore di essere stata invitata e di essere partecipe di questo viaggio perché ognuno di noi che rappresenta una posizione un'istituzione deve avere un'idea della sua funzione e di dove vuole che l'istituzione che rappresenta vada e è bello far parte di un percorso che vede in fondo una luce che ha un'idea alta della società e della finalità dell'attività che ogni giorno poniamo in essere e che ha anche la consapevolezza che bisogna lavorare in squadra bisogna immergersi nei fatti della società bisogna per quello che riguarda la mia istituzione e il tribunale non esserci solo per giudicare e condannare che è la funzione del settore penale principale del resto ma può esistere anche un modo diverso che si accompagna sicuramente alla fase del giudizio e della condanna che è indefettibile e centrale ma che non è isolata e unica ma si accompagna da un lato all'accompagnamento dell'imputato a un suo recupero a una sua rieducazione a una ricuscitura di uno strappo che ha commesso dall'altro all'accompagnamento della vittima fin dall'inizio per aiutarla a superare questo tipo di insulto che ha ricevuto e farli incontrare in una mediazione penale riconciliare veramente annullare nei limiti del possibile quello che il reato di negativo ha prodotto quindi grazie ancora buon lavoro scusate se non potrò assistere a tutti i lavori ma ho spiegato al professor Santoro che per me oggi è una deadline devo depositare le tabelle che sono ormai il mio incubo e quindi purtroppo non posso assistere ma sicuramente i lavori saranno pubblicati e spero insomma di averne una conoscenza quantomeno in diretta e spero di proseguire con tutte le persone che sono qui presenti questo percorso anzi di inserirmi in maniera più attiva grazie grazie veramente di cuore ringraziamo la presidente Rizzo e io Marilena grazie perché dalle tue parole ti dico non solo siamo felicissimi che il tribunale sia la nostra casa ma dalle tue parole credo che diventerà una casa sempre più confortevole dove potremo lavorare veramente grazie veramente Marilena io chiedo scusa a Lucia Castellano darei per cinque minuti la parola all'avvocato Fenies che è il presidente dell'ordine degli avvocati di Firenze che ci ha fatto l'onore di venirci a salutare e credo che sia giusto venga avvocato grazie buongiorno a tutti intanto sono solo il vice e non il presidente il presidente e l'avvocato Paparo diciamo io sono il vice e mi occupo di tutte le questioni penali vi porto il saluto dell'ordine degli avvocati di Firenze e gli auguri di buon lavoro su un tema importantissimo uno dei temi di profondo rinnovamento della giustizia penale che è un settore che viene come dire anche scardinato come avviene nella mediazione cioè rispetto al tradizionale assetto del giudice dell'imputato e del suo difensore la pretesa punitiva dello Stato nei confronti dell'imputato con l'accessorio di un'azione civile risarcitoria della persona offesa viene modificato e viene ridisegnato con la partecipazione in prima battuta di altri soggetti di altre professionalità e che impone evidentemente anche all'avvocato di riqualificarsi di rigenerarsi e di trovare anche meccanismi di intervento diversi è un terreno come voi ben capite delicatissimo in cui l'avvocatura c'è è presente ed è disponibile però è un terreno delicatissimo perché si gioca in una fase antecedente a quella del processo che è quella dell'accertamento della responsabilità e quindi la figura dell'avvocato è doppiamente impegnata perché l'esperimento era messa alla prova per parlare di questo da noi già conosciuto nel processo dei minorenni un esperimento che per quanto riguarda l'avvocatura è riuscito ha avuto e ha tuttora grandi risultati siamo felici di poterlo sperimentare anche nella fase del giudizio ordinario e quindi degli imputati maggiorenni auspichiamo che si possano risolvere anche tutte quelle problematiche che sembrano rendere un pochino più difficoltosa l'applicazione di questo istituto non voglio rubare altro tempo ero già un fuori busta e quindi come dire mi taccio vi auguro buon lavoro che sia proficuo e che i risultati di questo lavoro possiamo tutti utilizzarli in maniera efficace per una giustizia sempre più giusta vi ringrazio ringrazio l'avvocato Fenis che io avevo promosso sul campo nell'enfasi però l'enfasi era dettata anche dal fatto che per proseguire questa esperienza ci serve assolutamente l'aiuto degli avvocati penalisti quindi io dico all'avvocato Fenis che spero che questo saluto sia l'inizio di una lunga collaborazione tra gli avvocati penalisti e questo progetto perché portare avanti la mediazione penale nella messa alla prova senza l'aiuto degli avvocati è un'impresa impossibile quindi dobbiamo fare una grande opera di sensibilizzazione tra gli avvocati per far funzionare questa esperienza grazie ancora avvocato ci ha raggiunto il sottosegretario Cosimo Ferri vuoi prendere fiato Cosimo ascolti un poco e poi prendi il fiato perfetto allora proseguiamo secondo l'ordine del giorno previsto e io do la parola a Lucia Castellano con la quale ci conosciamo credo ormai da vent'anni o qualcosa del genere lei era direttrice del carcere più bello d'Italia secondo tutta la stampa che è quello di Bollate a Milano e oggi Lucia è la direttrice generale dell'esecuzione penale esterna in questa nuova di questo nuovo dipartimento che racchiude esecuzione penale esterna e giustizia minorile quindi è in qualche modo la diretta interlocutore del nostro progetto e forse anche la persona a cui è affidata se questa viene considerata una buona prassi la sua diffusione in altre realtà italiane prego Lucia grazie mille buongiorno a tutti scusate mi sono strapiena di raffreddore eccoci sì ecco mi fa particolarmente piacere essere qui oggi davvero non è una formula di rito perché sono veramente direttamente interessata siamo come dipartimento direttamente interessati e coinvolti e a noi l'onore e l'onere come diceva bene Emilio Santoro di cercare di capire e di diffondere e di lavorare insieme in questa appunto grande rete che stiamo costituendo che oggi è plasticamente rappresentata da tutte le persone che sono oggi al tavolo io vi porto innanzitutto i saluti della presidente Gemma Tuccillo che è il capo del dipartimento della giustizia minorile di comunità come sapete noi abbiamo spostato si è stata spostata l'esecuzione penale esterna dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al dipartimento della giustizia minorile quindi noi abbiamo questo nuovo dipartimento che ha due direzioni generali una che si occupa di minori e l'altra che è quella da me coordinata e diretta che si occupa dell'esecuzione penale esterna e della messa alla prova e abbiamo al dipartimento uno specifico ufficio una direzione che si occupa soltanto di messa alla prova in tutta in tutta l'Italia quindi questo già da la dimensione dell'attenzione politica prima e amministrativa poi rispetto a questo a questo istituto e questa riforma naturalmente è soltanto un primo passaggio ma è un primo passaggio importante perché determina un posizionamento notevole cioè noi siamo insieme alla giustizia minorile e vogliamo dalla giustizia minorile mutuare prima di tutto un primo principio quello del ribaltamento delle proporzioni cioè tra chi sta dentro il carcere e chi sta fuori del carcere nella giustizia minorile viva è Dio i minori detenuti sono pochissimi sono tantissimi quelli in esecuzione penale esterna e noi vogliamo assolutamente arrivare a questi livelli e mi sembra che anche il ministro con la appunto con la delega che ha che è stata approvata ci ci indica una strada ancora più precisa diciamo di Iure Condendo mentre già stando così le cose noi siamo assolutamente convinti che dobbiamo ridurre al massimo le persone il numero delle persone detenute e questo è già un primo principio importante e la messa il fatto che ci sia stata che sia stata introdotta la messa alla prova per gli adulti nel 2014 è ancora in maniera più più plastica una concretizzazione di questo di questo principio di questa strada io oggi sono qui perché appunto siamo dobbiamo concretizzare dobbiamo soprattutto rendere l'Italia e questo è molto complicato un territorio omogeneo e io so che la Toscana è davvero e non lo dico per piageria non lo dico perché sono qui ma è davvero un un motore da questo punto di vista per cui io davvero sarò tutta la giornata con voi e ascolterò le vostre esperienze e le vostre le vostre anche le criticità che mi esporrete qualcuno l'ha già detto la questione dell'Inail e poi l'affronteremo magari nella tavola rotonda del pomeriggio adesso non voglio levare tempo a nessuno ma il mio primo intendimento in questa giornata è quello di essere in mezzo a voi e di ascoltarvi e di portare anche in altri territori del nostro paese l'Italia è estremamente frazionata io non ho mai avuto un incarico nazionale e mi sto rendendo conto veramente di quanto sia complicato cercare di portare queste rivoluzioni culturali un po' dovunque nel nostro territorio nazionale e quindi io sono qui sostanzialmente oggi per ascoltare e per imparare e per seguire queste buone prassi quello che fate mi sembra assolutamente come dire avvenieristico rispetto a tante altre realtà che io vedo visito e con cui lavoro per cui davvero più che per portare un'esperienza io vengo oggi per ascoltare e poi per un altro per un altro obiettivo che noi abbiamo è quello di far sentire Roma vicina alle articolazioni territoriali perché credo che la vicinanza del ministero che alle volte è visto anche come un po' l'origine di tutti i mali cioè quello con cui un po' giocare a freccette o dire è proprio perché Roma non capisce perché Roma non ci dà i mezzi le risorse che poi è parzialmente vero e anche noi che stiamo a Roma siamo delle volte invigliati in questo sistema ecco oggi io vorrei testimoniare con la mia presenza durante tutta la giornata che invece noi ci siamo e per quel che possiamo siamo assolutamente non soltanto convinti di quello che dobbiamo fare ma convinti anche che c'è bisogno di imparare e di lavorare tutti quanti insieme quindi spero poi durante la tavola rotonda poi nei dettagli interverrò sui punti che sono secondo me nodali rispetto a questa misura straordinaria che l'ha messa alla prova e la mediazione penale però per ora vi porto davvero il saluto di tutto il nostro dipartimento grazie grazie Lucia e devo dire appunto proprio perché conosco bene Lucia e il suo interesse e la sua capacità di lavoro abbiamo deciso io ho insistito su questo che Lucia non sia solo istituzione che porta i saluti ma parte fondamentale della discussione che facciamo oggi per cui oggi pomeriggio Lucia sarà una degli attori della discussione sulla tavola rotonda sul funzionamento dell'istituto perché oltre che Lucia direttore dell'esecuzione penale esterna vogliamo discutere con Lucia operatrice dell'esecuzione penale esterna che porta il suo contributo importantissimo grazie ancora Lucia do la parola a Francesco Marzico che è il vice direttore della Caritas italiana anche con Marzico noi ci incontriamo nelle conferenze del volontariato giustizia e appunto come abbiamo detto la Caritas è un po' l'istituzione che ci ha consentito di svolgere questa esperienza ma anche l'istituzione che ben mette insieme le due facce come Alessandro ha ricordato cioè quelle della mediazione e dell'accompagnamento nel percorso di poi messa alla prova ed è per questo che abbiamo poi scelto la Caritas come contenitore e come partner per questo progetto prego grazie ovviamente di questo invito ovviamente debbo portare i saluti del mio presidente di Caritas italiana Cardinal Montenegro del mio direttore Francesco Soddu che evidentemente appunto conosco come il suo progetto come uno dei progetti di eccellenza in questo ambito io ovviamente non sono un tecnico diciamo così anche se frequento Emilio Santoro della conferenza volontaria della giustizia conferenza nazionale e mi limito soltanto ad alcune riflessioni spero brevissime sul tema appunto dell'approccio che Caritas ha portato avanti in questi anni su questo tema e alcune riflessioni di tipo generale che evidentemente in un parterdi tecnici diciamo così ecco posso permettermi di portare come contributo specifico Caritas in questi anni ovviamente ha come dire ha avuto una crescita di consapevolezza del trasferimento sui territori dell'esecuzione penale ovviamente il volontario tradizionale si concentrava sull'istituzione carcere come luogo fisico simbolico del proprio agire e chiaramente contestualmente la crescita della meditazione penale e della giustizia di comunità all'interno della quale evidentemente si colloca anche l'istituto la messa alla prova su questo tentativo di appunto di presa di coscienza ha portato Caritas italiana e le Caritas di Ciocesane a trasferire diciamo così questo tipo di impegni su progetti nuovi in particolare Caritas italiana ha portato avanti sta portando avanti peraltro con l'ispettorato generale dei Cappellani quindi con Raffaele Grimaldi un progetto sul tema del sostegno di iniziative innovative delle Caritas di Ciocesane e proprio sul tema appunto dell'esecuzione penale esterna e dall'altra appunto una riflessione con la Università Cattolica sulla mediazione penale quindi oltre l'esclusività del carcere e l'esecuzione della pena c'è l'esigenza ovviamente lo diceva Giola Castellano il paese grande e diverso l'esigenza di riorientare l'azione del volontariato delle Caritas delle comunità cristiane a percepire appunto in maniera diversa questo ambito mi limito a questo punto alcune riflessioni su questa fase paradossale del paese noi stiamo vivendo in questo momento non soltanto sul tema della pena processi di pur faticosa e non lineare riforma di aggiornamento in un paese appunto segnato dagli effetti della crisi economica e da differenze territoriali che si sono acuiti in questi anni come ci ricordava la Castellano e questo si percepisce dentro fenomeni da non sottovalutare di sofferenza sociale di minore coesione ovviamente sono romano e l'esperienza appunto che tutti abbiamo detto sui giornali della cacciata di una famiglia non di stranieri ma di italiani diciamo così di colore diverso a Roma ci deve dare il segno appunto di questa non linealità della storia dei processi di appunto anche costruzione faticosa di forme diverse di coesione territoriale quindi appunto noi siamo a valle di processi appunto pure non lineari di riforma riforma del terzo settore l'approvazione della legge di contrasto alla povertà che comunque per un paese come il nostro è una novità assoluta rispetto appunto agli anni scorsi un piano dell'integrazione fatto qualche giorno fa dal ministro dell'interno anche quello a valle di una modifica forte della politica di accoglienza sugli immigrati e anche il tema del riordino della materia del gioco d'azzardo voi direte che c'entra tutto questo e c'entra dal mio punto di vista dal nostro punto di vista perché tutto questo pone come il tema dell'esecuzione del problema esterna di una giustizia di comunità l'esigenza da parte dei soggetti sociali di ripensare le forme dell'agire sociale ricentrandola in senso territoriale con appunto una capacità di attuazione espansiva delle politiche in atto non è scontato tutto questo senza entrare nei contenuti delle singole politiche pensare che la presa in carico ad esempio delle persone beneficiari del sostegno per l'inclusione attiva del reddito di inclusione senza la propria comunità di riferimento è improponibile pensare che tutto questo sia in mano soltanto e lo dico con rispetto e anche angoscia a soltanto gli operatori sociali ai centri per l'impiego evidentemente un'impresa impossibile soprattutto in alcuni territori Castellano ce lo diceva e questo è vero anche per altre questioni appunto un piano per l'integrazione senza territori che sappiano essere accoglienti appunto che sappiano almeno non cacciare persone aventi diritto dentro la propria dalla propria casa evidentemente sarebbe soltanto un puro esercizio di stile un diritto di carta come appunto prima si diceva questo lo dico non in termini disperanti ma proprio appunto che c'è la fase di necessario riapprendimento delle forme di azione sociale che favorisca approcci non sempre scontati nel recente passato qui il problema non è soltanto di essere in minoranza ma in minoranza intensa e capace di cogliere i segni di questo tempo e non di altri quindi ci sono alcuni aspetti che parlo diciamo così guardando il mondo di provenienza ma anche il terzo lettore la capacità di uno sguardo olistico piuttosto che specialistico rispetto alla progettazione e di costruire e questo di oggi è un esempio straordinario in questo senso coesione con alleanze insolite come quelle di questo progetto che vedono insieme appunto mondi dell'accademia mondi del diritto mondi appunto della solidarietà mondi istituzionali piuttosto che sbandierare o sviluppare pratiche conservative in genere stacciate come alternative di minorità che appunto confondono la dimensione della denuncia cioè con quella della rinuncia ad avviare processi di cambiamento quindi vi è la necessità di raffinare dentro uno scenario sociale nuovo e anche normativo il ruolo dei soggetti sociali per questo la progettazione sociale e questo esempio di Firenze straordinario deve lavorare perché i propri progetti che sono polisi possibili non sono progetti diciamo così di solidarietà fino a se stessi appunto che sono però sviluppati dal basso assumono l'obiettivo di abitare le nuove sfide e le novità normative per sperimentarle attuarle con capacità critica innovativa con la presunzione appunto di sviluppare una doppia advocacy per far includere che rischia di essere lasciato fuori da queste forme nuove innovative di giustizia penso a tutto il tema dentro la giustizia di comunità il tema degli immigrati ad esempio non solo migliorarle nel tempo la qualità della norma ma anche riuscire a partire diciamo così non soltanto dagli esti sulle persone non dalla forma astratta diciamo della norma ma soprattutto vivere queste diciamo così nuove sfide normative con quell'approccio che la lettera di Ogneto diceva rispettare le leggi e superarle voglio dire ampliando le previsioni e prefigurando si diceva prima scenari e futuri diversi ecco per questo Caritas Ireliana è qui con voi oggi e con Caritas di Firenze è uno sforzo che sta portando avanti con questo progetto e quindi guarda con attenzione e interesse proprio per imparare i modi nuovi di essere in questo tempo in maniera appunto non rinunciataria ma capace di innovazione e di costruzione di comunità solidari nuove e efficaci Grazie Francesco e grazie alla Caritas per essere capace non solo di ascoltare i soggetti deboli e marginali ma anche i nuovi progetti veramente grazie do la parola al sottosegretario Cosimo Ferri che ringrazio per aver trovato il tempo di occuparsi di questa esperienza prego Cosimo si editi grazie va al microfono si parla in piedi buongiorno a tutti grazie al professore all'amico Emilio Santoro per questo invito e anche per la passione oltre che alla competenza e alla professionalità che impieghi in questi temi perché insomma in questo percorso in questa esperienza governativa di questi anni ci siamo confrontati in più occasioni e quindi ho sempre apprezzato il tuo entusiasmo la tua voglia anche di aiutare il legislatore a trovare delle soluzioni e anche e che poi è lo spirito anche della giornata di oggi a fare rete a creare una rete e a coinvolgere tutti i soggetti istituzionali e non solo a confrontarli col mondo del volontariato che è davvero l'anima del nostro paese prima parlava il professor Marsico della Caritas e ha integrato e ha toccato tanti altri temi che secondo me si inseriscono invece in tutto quello che vuol dire appunto confrontarsi aiutare e guardare a chi è in difficoltà su tanti temi perché poi parlava del gioco d'azzardo e anche lì nascono tutta una serie di reati dove diventa difficile perché uno dei temi e anche quando parli di mediazione di giustizia riparativa è intanto capire chi è la persona offesa e molte volte la persona offesa può essere indiretta c'è tutto il tema per esempio della mediazione presso le comunità dove non è individuata una persona offesa o la persona offesa non c'è più ci sono i familiari e quindi tutto quello che comunque comporta anche il coinvolgimento dei familiari legati alla persona offesa quindi è un concetto molto più ampio c'è tutto il tema e pensavo prima anche quando parlava del gioco di azzardo al tema sempre della famiglia che c'è dietro all'autore e alla persona che è malata e che comunque invade che vive poi la sofferenza e la ricaduta del soggetto che compie in essere queste condotte quindi noi dobbiamo essere pronti a creare questa rete che oggi può avere un aspetto più giuridico e tecnico a seconda delle recenti normative ma che in realtà deve avere una visione a 360 gradi saluto poi ringrazio la professoressa Giunti Patrizia Giunti con la quale insomma ci conosciamo da diversi anni la ringrazio non solo per il ruolo l'ospitalità dell'università di Firenze ma anche per il contributo che sta dando l'università di Firenze su questi temi non dimentichiamoci che quando si parla di mediazione esiste anche la mediazione civile dove comunque anche nella mediazione civile c'è conflittualità molte volte dal civile e lo sa chi frequenta le aule di giustizia non solo gli avvocati qui vedo anche la collega Cipriani che saluto dal civile si passa poi al penale la conflittualità del civile molte volte porta reati più o meno gravi che però possono poi portare alla giustizia penale e quindi l'università di Firenze anche sulla mediazione civile ci ha insegnato con gli osservatori con il gioco di squadra e quanti risultati positivi si possono ottenere quindi penso che la giornata di oggi sia importante alla luce anche come diceva prima il direttore generale Castellano della delega che stiamo esercitando come governo c'è una commissione che sta studiando i problemi della giustizia riparativa più che studiare deve attuare la delega e quindi in attuazione della delega anche su questo tema della giustizia riparativa che è molto caro al ministro vogliamo aprire sempre di più coinvolgendo tutti quindi io ringrazio poi il volontariato di tante associazioni servizi territoriali che oggi sono presenti perché questo percorso non può essere lasciato solo alle istituzioni ma ha bisogno del coinvolgimento di tutti coloro che sono sul territorio che fanno rete che vivono il volontariato che frequentano anche i nostri istituti penitenziari che sapete che il numero dei volontari aumenta sempre più guardavo l'altro giorno delle statistiche in alcune realtà sono i giovani che aumentano nel entrare nelle carceri per fare volontariato e quindi questo mondo di carcere che noi vogliamo portare all'esterno in senso tra virgolette cioè vogliamo creare un carcere fuori dal carcere che non sia quel carcere che veda il luogo di detenzione così come siamo abituati a vederlo ma che sia aperto a un concetto nuovo di pena a una pena che sia davvero rieducativa perché abbiamo visto che tutto il tema delle misure alternative porta dei risultati maggiori anche in termini di sicurezza e di recidiva e di recidiva rispetto a quello che avviene dentro le carcere e così il legislatore ha iniziato tutta una serie di norme che sono state approvate siamo quasi alla fine della legislatura ma io desidero risottolineare quello che è stato fatto abbiamo depenalizzato tutta la serie di reati bagatellari dicendo manteniamo l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura per fatti grave di grave allarme sociale ma non possiamo continuare con i reati bagatellari che riempiono gli uffici giudiziari impegnano le forze dell'ordine qui c'è anche il rappresentante dell'arma dei carabinieri che saluto con quello che comporta il processo penale tra i gradi di giudizio i testimoni e tutto quello che senza poi lavorare invece su un progetto un programma rieducativo che possa essere invece più efficace di quei tre gradi di giudizio di quella sanzione penale quindi con il decreto legislativo 7 del 2016 e l'8 del 2016 abbiamo lavorato sulla depenalizzazione e sulla trasformazione di alcuni reati nell'ecito civile abbiamo introdotto col 131 bis del codice penale la non punibilità per la particolare tenuità del fatto e poi l'estinzione del reato all'esito positivo della messa alla prova e subordinata anche alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e da ultimo l'ultima novità della legge 103 del 2017 l'estinzione del reato procedibile a querela per condotte riparatorie quindi il messaggio è chiaro si evita si estingue il reato si estingue il procedimento con la messa alla prova che poi l'abbiamo ereditato dal processo penale minorile e sappiamo quali risultati positivi ha portato che ci invidiano in tutta Europa anche per questo processo particolare che comunque sta funzionando e ha funzionato in questi anni in Italia abbiamo quindi introdotto questo istituto anche per gli adulti con un limite di pena e quindi la sfida che abbiamo oggi è quello di farlo funzionare l'istituto della messa alla prova tutti insieme per poi riaprire un dibattito e vedere se siamo pronti anche ad alzare il limite dittale c'è stata una grande discussione in Parlamento su questi temi per la messa alla prova sul limite dittale sembrava uno tirasse 4, 5, 6, 7 a seconda quando invece noi volevamo dare un messaggio di un cambio culturale e di un approccio diverso di fronte alla sanzione penale i temi sono sono tanti e oggi sicuramente li analizzerete ne è stato accennato qualcuno ci sono anche degli aspetti burocratici ascoltavo con interesse anche tutta la problematica dell'INA e del profilo assicurativo e quindi dobbiamo semplificare anche a chi fa associazionismo la possibilità di lavorare di contribuire perché di fronte alla burocrazia poi anche chi è mosso da grande volontà si ferma e quindi sta il legislatore quindi benvenga il risultato di questa giornata e il documento che verrà elaborato come proposte non so quante di queste potranno essere inserite nella delega quindi invito davvero a trasmettere e comunque la dottoressa Castellano sicuramente porterà una sintesi a Roma per cercare laddove possibile di introdurre qualcosa anche nel decreto delegato e se no di riavviare un percorso e un dibattito per modificare e per contribuire su questi su questi temi dobbiamo poi e lo sappiamo rafforzare gli UEPE perché per quanto riguarda gli UEPE noi oggi investire se no rimane teoria quindi noi abbiamo il dovere ed è un dibattito aperto di intanto rivedere e anche all'interno per esempio della polizia penitenziaria si guarda a un nuovo modo di svolgere il lavoro e un nuovo approccio però noi dobbiamo lavorare per assumere educatori dobbiamo lavorare per assumere assistenti sociali e dobbiamo lavorare per allargare questo tema e guardate che noi stiamo andando sempre di più a una specializzazione tocca un tema che non c'entra con questo però per dire abbiamo un laboratorio DNA presso il dipartimento e stiamo assumendo specializzati quindi biologi quando crei un sistema come quello della messa alla prova non puoi fare a meno degli assistenti sociali e degli operatori e quindi noi dobbiamo da una parte fare rete con quelli del territorio e dall'altro dotarci di una struttura di un corpo e quindi di un ampliamento di questa figura temi su cui il ministro in più occasioni è intervenuto e io sono sicuro che sarà un obiettivo che si raggiungerà perché abbiamo bisogno di queste professionalità specifiche perché se no non può partire il progetto che siano anche gli interlocutori con il mondo del volontariato col territorio che creino questa rete per cercare di capire come intervenire e per portare avanti appunto tutti questi temi che non sono solo giuridici ma le caratteristiche della mediazione come conoscete meglio di me hanno una funzione recuperatoria e quindi il recupero del soggetto quindi la pena vista come recupero del soggetto una componente premiale prima parlavo dell'estensione del reato e anche tutto quello che riguarda anche una funzione deflattiva ma noi non facciamo questo per deflazionare basta perché non è questo il senso il senso è quello di avviare di raggiungere l'obiettivo di un cambio culturale di fronte a questi temi mi sembra che Firenze io mi complimento con l'UEP di Firenze perché i dati che ho visto e che il professor Santoro mi ha mandato da gennaio 2016 a settembre 2017 su 122 casi inviati si riscontra il 47% di mediazioni positive e sono dati significativi il 55% è avvenuto attraverso un confronto tra imputato e persona offesa e il 45% su quelle mediazioni comunitarie di cui prima di cui prima parlavo quindi sono dati davvero importanti occorre poi lavorare sui tempi per esempio ho notato dallo studio che avete fatto che i tempi della mediazione comunitaria sono necessariamente più lunghi perché ci sono soggetti esterni da coinvolgere rispetto a quelli dell'incontro tra imputato e persona offesa dobbiamo lavorare poi anche su come preparare l'incontro e voi è questo per gli operatori un obiettivo ben noto che fa parte della vostra professionalità ma anche dare le strutture perché il luogo e la riuscita dell'incontro dipende anche dal luogo in cui lo svolgi dal modo in cui riesci a porre il confronto tra imputato e persona offesa lavorando prima nel superare alcune barriere e quindi far accettare l'incontro e poi proponendo anche soluzioni facendo capire qual è la strada da seguire e che sia una cosa davvero effettiva e concreta e poi va inseguito nel percorso perché nel momento in cui noi riusciamo a attrezzarci con risorse con personale dovremo poi avviare una fase 2 anche quello che ne avviene dopo finito il periodo della messa alla prova perché comunque esiste anche una fase 2 che è la fase certamente più complicata è un po' come quella quando si crea rete si cerca di creare la rete e mi pongo sempre soprattutto nel campo minorile quando un minore esce dal carcere sapere dove va la famiglia che sicuramente c'è a me mi colpiva sempre l'acconto sempre a Pontremoli dove sono io che c'è un istituto peritenziario minorile femminile rimasi colpito una volta una rappresentazione teatrale vedi il teatro pieno non conoscevo le persone conoscendo tutti lì ero un po' stupito chiesi al direttore ma sono tutti familiari e lui mi disse no qui non c'è nemmeno un familiare come dico c'è nemmeno un familiare davo per scontato che al momento in cui un minore che in un istituto peritenziario minorile va fuori in un teratro autorizzato dal magistrato che il familiare andasse quindi questo vuol dire lo cito come esempio perché molte volte c'è la crisi della famiglia quindi all'interno quindi è anche difficile capire se c'è la crisi della famiglia se questo il minore ha corso in un errore per una fragilità sua per una fragilità del contesto e capire se questa fragilità poi si è interrotta e quindi anche esco e quindi anche questa fase 2 sia per chi esce ma anche nel periodo della messa alla prova della progettualità penso che sia importante quindi comunque i temi sono tanti il mio non deve essere un intervento ma era solo un saluto e vi ringrazio davvero perché penso che questo sia il futuro se noi riusciamo davvero a portare la centralità della mediazione penale nella messa alla prova anche degli adulti penso che si possa avviare una fase nuova e anche di convincere le persone che criticano senza conoscere il sistema penitenziario senza conoscere i luoghi detentivi senza capire quanto sia molto più importante lavorare su questi temi per creare sicurezza perché la sicurezza la crei lavorando sull'autore del reato lavorando sul soggetto facendo capire facendolo ritrovare 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 se stesso quindi è un percorso anche culturale che insieme si può vincere io saluto e ringrazio anche Don Grimaldi perché credo molto anche nella figura all'interno degli istituti del cappellano e anche del lavoro che fate all'esterno per creare questo ponte tra sistema penitenziario e società civile e penso che questo ponte che creiamo sempre più con fatica perché poi anche il Parlamento molte volte su questi temi è diviso penso che il modo migliore sia per costruirlo sia proprio puntare sulla mediazione penale io ho seguito la legge ero in aula quando è stata votata e devo dire rimasi stupito da un dibattito così acceso da un dibattito molte volte spinto da chi non conosceva il nostro sistema da chi non conosceva il percorso che è davvero necessario per garantire tutto questo quindi grazie buon lavoro a tutti grazie per l'invito grazie ringraziamo il sottosegretario Ferri per questo intervento veramente a 360 gradi che ha affrontato un sacco di problemi Cosimo nella mia funzione di rompitasche che tu hai raccontato del sì sì io la metto così direi dato che ti sei soffermato tanto giustamente sui problemi della giustizia minorile ecco per esempio dato che parliamo soprattutto a un pubblico di assistenti sociali forse è il caso di riflettere se il carcere minorile deve essere un carcere con la polizia penitenziaria o solo di assistenti sociali credo che questa sia un importante sì questo è una buona questa è un importante tema di riflessione che in molte parti d'Europa è stato fatto un carcere diciamo demilitarizzato e forse dovremmo pensare anche al carcere minorile in questi termini grazie veramente Cosimo e ora io do la parola a Laura Bini che è la presidenza del Croes della Toscana perché questo progetto ha come dire un suo punto centrale che è non è stato facilissimo da gestire c'è voluto tempo anzi diciamo che l'ha stato il lavoro preparatorio a questo progetto perché sincronizzare mentalità dei mediatori con mentalità degli assistenti sociali è stato un lungo lavoro sì mentalità nel senso proprio come affrontare modo di affrontare il problema di rappresentare e affrontare il problema e credo che il fatto che appunto i numeri che Cosimo Ferri ricordava e dimostrano come questo sia riuscito cioè mediatori e assistenti sociali con un confronto continuo abbiamo fatto decine di incontri abbia funzionato e oggi sono veramente una squadra unica che questa non è una cosa indifferente lo dicevo all'inizio in parte ritornava nelle parole di Cosimo la come dire la messa alla prova collegata alla mediazione la messa alla prova è in qualche modo un follow up della mediazione specialmente quando la mediazione non è con la vittima diretta ma è mediazione di comunità perché quello che noi cerchiamo di fare è sempre di coinvolgere questo ente esponenziale nella messa alla prova cioè renderlo lui l'ente presso cui si fa la messa alla prova in modo da connettere direttamente la lesione dell'interesse con la riparazione e questo è un lavoro lungo faticoso che però appunto quei 40% 45% dei casi che ricordavi dimostrano che può funzionare con grande lavoro e qui io devo ringraziare tutti gli enti che diceva la dottoressa Bini non è facile trovare un ente che è disposto non solo assumersi il carico della mediazione ma anche poi di fare il progetto di pensarlo della messa alla prova e veramente grazie a tutti gli enti e grazie alle assistenti sociali che hanno trovato la forza e le risorse culturali per confrontarsi con questo nuovo istituto prego dottoressa buongiorno buongiorno a tutti e vorrei fare un come dire una premessa quasi personale io ieri ho presieduto un un convegno dove abbiamo parlato di ricerca e prassi professionali mi pare che oggi questa cosa si ripeta ed è un bellissimo segnale l'altro segnale che vorrei sottolineare è che sia ieri sia oggi c'è un confluire di istituzioni diverse che puntano sullo stesso obiettivo certo è vero è faticoso correlare le proprie dimensioni professionali ma su questo credo che ci riusciremo ci riusciremo io credo sono rappresentante di una professione di una comunità professionale che in questo ultimo periodo trova come dire viene molto sottolineata molto posta in avanti sto pensando al rei piuttosto che al sia alla messa alla prova e quindi che viene caricata contemporaneamente di grandi responsabilità la responsabilità sostanziale è che la messa alla prova viene agita dagli assistenti sociali nel senso che sono il cuore intorno al quale la messa alla prova gira ed è una professionalità che deve essere scoperta io mi verrebbe da dire riscoperta perché nella letteratura di servizio sociale ci sono alcune parole che stamattina sono state dette tipo l'ascolto l'accoglienza l'accompagnamento che fanno parte del bagaglio culturale dell'assistente sociale c'è poi un'altra parola che è tipica della messa alla prova e che è la responsabilizzazione il lavoro degli assistenti sociali è un lavoro nelle metodologie di responsabilizzazione del soggetto per il futuro e credo che questo sia come dire l'elemento sostanziale della messa alla prova io mi rendo conto dell'evento che ho messo in atto e mi responsabilizzo di ciò che questo ha prodotto questo credo sia l'elemento sostanziale della messa alla prova e quindi come dire gli assistenti sociali benvenga sottosegretario un ampliamento della dotazione degli assistenti sociali perché il carico di lavoro al quale sono sottoposte è un carico di lavoro meno male essendo la prevalenza il femminile possiamo utilizzare il femminile è un carico di lavoro di grande stress fra l'altro e l'interlocuzione degli assistenti sociali con le altre figure professionali non è di minor stress rispetto all'interlocuzione con il messo alla prova sono come dire prospettive professionali molto diverse che hanno bisogno di trovare in un lavoro di avvicinamento e anche di costruzione di un progetto una definizione ciascuna del proprio compito senza per questo come dire entrare in come dire il rischio è che o ci sia una simbiosi di funzioni che comunque non porta da nessuna parte o un conflitto altrettanto quindi la definizione di funzioni diverse mi colpiva ma perché mi risuonava dentro quanto ha detto la professoressa Giunti sulle categorie di analisi e sulle categorie che derivano dalla prassi professionale io credo che questi siano elementi fondamentali per la costruzione di una conoscenza comune e condivisa cioè è questo l'elemento che ci può che porta che può portare tutti con le professionalità diverse e anche con gli interessi diversi a lavorare in una certa direzione cioè dobbiamo cercare di condividere le categorie concettuali e le categorie concettuali finalmente ieri in un convegno ma ancor più oggi derivano da una ricerca non derivano da un'idea astratta che o comunque sono interrelate fra di loro e solo così noi riusciamo a produrre quella conoscenza necessaria che per il servizio sociale si traduce in prassi professionali perché quelle sono poi l'elemento determinante la relazione con l'assistente sociale ma certamente non solo ma è uno degli elementi fondamentali della messa alla prova se quella fallisce probabilmente la messa alla prova andrà peggio recentemente ho avuto modo di fare due ore di formazione a colleghe a Roma sui temi dell'etica e della deontologia della deontologia professionale del ministero ed è stato insieme alla collega Rollino ed è stato interessante come per poter parlare di prassi professionali abbiamo bisogno di parlare di etica e di deontologia e questo è un tema che è trasversale che è importante e che trova collocazione dentro la rete delle istituzioni e delle risorse della comunità perché nessuno di noi può essere portatore di un'etica della comunità faccio un'ultima nota l'abbiamo condivisa poco fa ma c'era questa assonanza di date e allora ho fatto il conto nel 77 c'è il DPR 616 del 77 che delega ai comuni quindi che porta nel territorio e nella comunità tutto il settore dell'assistenza ed è anche quel momento in cui il civile e l'amministrativo del minorile passa nel territorio ovviamente la map è di pochi anni fa ma siamo nel 77 e sono 30 anni finalmente il carcere che è l'ultima istituzione totale della nostra organizzazione sociale in qualche maniera viene a diminuire nella sua intensità e viene anche questo tema di chi commette reato torna alla comunità perché una comunità competente è un luogo di benessere per tutti non solo per chi ha commesso reato e mi chiudo sul tema della comunità il servizio sociale è la professionalità l'assistente sociale è il professionista che più di altri deve riscoprire il lavoro con la comunità perché una delle dimensioni dell'attività professionale è proprio quella della comunità auguro a tutti buon lavoro spero che da questa giornata emergano ulteriori suggestioni per poter continuare a svolgere una funzione di promozione culturale non importa se siamo minoranza che vuol dire spaventeremo del contrario però insomma stiamo attenti a essere troppa minoranza non ci pare che questa cosa sia grazie ringrazio la dottoressa Bini che ha andato avanti a porre molti problemi di cui discuteremo oggi durante tutta la giornata io da giurista penso che appunto il diritto sia performativo come diceva un vecchio libro sia un modo di fare cose con le parole e quindi e quindi la concretizzazione di queste parole poi è il modo di capire cosa stiamo facendo con il diritto e in questo senso il lavoro delle assistenti sociali e il modo in cui si mettono insieme in questi nuovi istituti visioni della realtà diverse è fondamentale perché cambia il modo il significato performativo delle parole l'altra cosa che vorrei dire che credo che oggi questa riflessione dobbiamo fare e questo lo dico anche a Cosimo che se noi andiamo a vedere i dati nella messa alla prova poi c'è anche un effetto perverso e abbiamo un grande effetto di diciamo depenalizzazione in qualche modo e di decarcerizzazione ma abbiamo in un primo momento un riassorbimento nell'area penale enorme di un'area che forse non c'era cioè se noi vediamo le persone coinvolte nella penalità nel suo complesso comprendendo sia quelle diciamo appunto nel corso del processo e quindi messa alla prova sia quelle in esecuzione penale la messa alla prova ha allargato moltissimo i numeri della penalità italiana e questo è un dato su cui dobbiamo riflettere cioè molti casi che forse non sarebbero entrati nella penalità dato che la sanzione non è il carcere ma è appunto l'accompagnamento sociale vengano assorbiti dalla penalità e questo è un effetto perverso di cui insomma non dobbiamo scordarci e dobbiamo fare i conti perché se noi aggiungiamo ai dati dell'area carceraria e ora do la parola a Don Raffaele Grimaldi ma ci aggiungiamo quelli della messa alla prova allora i numeri della penalità italiana crescano enormemente e questo è un problema di cui credo dobbiamo anche discutere Don Raffaele Grimaldi rappresenta qui la CEI che è appunto il nostro finanziatore quindi grande gratitudine alla CEI con l'8 per mille ma Don Raffaele Grimaldi rappresenta il mondo dei cappellani italiani e quindi rappresenta uno spaccato importante del carcere italiano prego grazie di questo invito ed è anche molto bello molto significativo che un po' questa riflessione nostra si svolge proprio qui in aula e nell'università proprio per richiamare lo spessore culturale di quello che noi vogliamo affrontare oggi quindi a nome della conferenza episcopale italiana dei vescovi veramente un saluto particolare a tutti voi che operate un po' in questo settore ma in modo particolare anche a nome dei cappellani delle carceri italiani è vero si parla della mediazione penale di tante cose però sappiamo bene che anche il lavoro dei cappellani all'interno delle carceri è un lavoro minucioso è un lavoro delicato è un lavoro dove il cappellano si incontra con l'altro e noi sappiamo bene che proprio il detenuto si apre molto al cappellano quindi è un modo anche per risarcire un danno ma è anche un modo per affrontare la sua situazione particolare io vorrei tutte le cose che sono state dette ci hanno dato un indirizzo chiaro di quello che faremo oggi quindi ci sono state delle indicazioni molto belle molto chiare da parte di colori che già hanno intervenuto io vorrei richiamare però si parla molto del dopo del dopo il carcere però io penso che non dobbiamo dimenticare il prima c'è la prevenzione perché questo è fondamentale il dottore ferri parlava prima della famiglia e io penso che tante problematiche se oggi le affrontiamo è proprio perché questi soggetti vivono in famiglie disgregate in famiglie dove dove veramente c'è difficoltà di dialogo c'è difficoltà di attenzione io vengo da Napoli quindi tutta una zona anche di Scampia che se ne parla spesso vediamo che molte volte proprio in questi ambienti si concentra più delinquenza si concentra più illegalità e allora parlare del dopo va benissimo ed è giusto che sia così il dopo è il lavoro il dopo è cercare di trovare strade per il recupero della persona però è molto importante veramente puntare sul prima e cioè sulla prevenzione e la chiesa io parlo anche a nome della chiesa della conferenza episcopale italiana punta molto sulla famiglia sui giovani e io penso che questo è il lavoro che dobbiamo fare un po' tutti quanti noi quindi oltre al dopo che è importante ma anche recuperare un prima che è fondamentale per affrontare poi queste problematiche allora io concludo nell'agurare un po' a noi tutti un buon lavoro per questa giornata e ci auguriamo che questi temi che andremo appunto a riflettere possano portare frutto un po' nella nostra società e soprattutto possa diventare una cultura allargata anche ad altri grazie grazie a tutti grazie a tutti